Venduto Obi sei anni, aiuto per me Obi, tu vieni qui a ruba Obi, io l'ho visto? No. Due settimane fa aveva sventato un furto all'uscita del negozio Obi ad Arezzo ed era stato aggredito dal ladro. Adesso la multinazionale ha deciso di assumerlo nel suo punto vendita. L'ambulante quarantenne nigeriano infatti sostava sempre nell'area di sosta del grande magazzino proponendo fazzoletti ed altri oggetti ed era stato proprio lui a notare uno strano atteggiamento di un cliente entrato nel negozio con una borsa vuota ed uscito poco dopo dal varco riservato a chi esce senza aver fatto acquisti con la stessa tracolla ma questa volta visibilmente gonfia di oggetti rubati. Ma per tutta risposta aveva ricevuto due pugni in faccia dal ladro che poi era scappato. Il malvivente era stato comunque arrestato poco dopo per rapina impropria dai poliziotti. Adesso per l'ambulante che era stato anche ricevuto dal questore di Arezzo che aveva voluto complimentarsi con lui per il senso civico dimostrato inizia una nuova vita. La multinazionale si legge in una nota di Obi è lieta di poter ufficializzare l'ingresso nel proprio team di Oboi Gottsen che con la sua presenza discreta all'esterno del punto vendita ha saputo negli anni instaurare rapporti amichevoli con clienti e dipendenti del negozio.